E torneranno a giugno in visita al Parlamento Europeo a Bruxelles i studenti del Liceo di Scienze Applicate di Trivento, un viaggio premio per aver vinto un drone in un concorso che ha esaltato il patrimonio artistico e storico del Molise. Grazie a tutti. Siete molto entusiasti del premio ricevuto? Sì, molto, perché il drone è molto utile alla scuola per la realizzazione di altri video. Nel video cosa era descritto? La storia di Trivento? Abbiamo descritto la cripta di Trivento per valorizzare il patrimonio culturale di Trivento, soprattutto, che secondo noi è tralasciato e molto importante. Siamo molto felici perché comunque grazie a questo progetto, a questi video, abbiamo valorizzato l'ambiente molisano che molte volte viene sottovalutato. Quindi il Molise esiste. Qual è l'iniziativa e come è andato il riscontro? L'anno scorso abbiamo partecipato a un progetto indetto dall'Unione Europea sul conoscere l'Unione Europea, quindi su una descrizione dell'Unione Europea. Abbiamo deciso di progettare un video in cui descriviamo i vari organi dell'Unione Europea e come era organizzata l'Unione Europea. Il riscontro è stato molto positivo, infatti abbiamo vinto e il viaggio premio era un viaggio a Bruxelles, dove siamo stati per due giorni e dove abbiamo visitato appunto il Parlamento Europeo. L'esperienza è stata davvero interessante perché appunto ci ha permesso di conoscere la diversità nel mondo, in quanto Bruxelles è una città multietnica. Siamo state molto felici della vittoria e abbiamo ricevuto molte visualizzazioni e per questo siamo stati fra le vincitrici.